Quella di mercoledì prossimo contro il Catanzaro sarà una partita particolare per il portiere bianco-verde Francesco Forte ed il difensore Mirko Miceli, un match dal sapore diverso per l'oro che sono entrambi della provincia di Cosenza, per l'oro che da lupi dell'asila hanno sposato con grande onore la causa dei lupi irpini, un incontro che è quindi da considerarsi quasi un derby per l'estremo difensore che all'andata infortunato non ha potuto prendere parte al match e che in questo momento della stagione è tra i predoministi assoluti della squadra di Braia con parate spettacolari e la porta inviolata per ben otto volte nelle ultime dieci gare. Il numero 22 di Campora San Giovanni è pronto a guidare i bianco-verdi insieme al campitano e il leader del pacchetto arretrato. L'ex centrale della San Benedettese è ancora alla ricerca del primo gol stagionale e chissà che non ci riesca proprio nella sfida del Ceravolo, dove però mancherà un altro calabrese, Salvatore Aloi, così come non ci sarà il tecnico Piero Braia che oltre 15 anni fa con i giallorossi conquistò una delle sue tante promozioni in cadetteria.